Il Ministero dello Sviluppo Economico, 12 aprile Roma, blindati della Polizia e dei Carabinieri bloccano la strada ai manifestanti che vogliono assediare il Ministero dello Sviluppo Economico. Un'ingente quantità di forze dell'ordine preceduta da blindati che chiudono l'accesso alla strada e poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa per impedire ai manifestanti di assediare il Ministero dello Sviluppo Economico. E' iniziato un lancio fitto di lacrimogeni nei confronti dei manifestanti che si sono avvicinati fin sotto al Ministero lanciando fumogeni, arance e ortaggi contro le porte del Ministero dello Sviluppo Economico.